Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per il graditissimo invito e una scusa per i colleghi che hanno già sentito forse buona parte di questo intervento a Trento alla SIF. Anche se oggi c'è qualche, pur dopo soli 15 giorni c'è qualche piccola novità in più, credo abbastanza interessante per cui non è proprio esattamente la stessa presentazione. Premetto, e credo sia importante dirlo in questa sede, che questa ricerca è stata fatta nel quadro di un progetto più ampio in atto a Pisa, progetto che dovrebbe al momento culminare in questo piccolo convegno che facciamo dal 7 al 9 novembre, che credo la SISFA abbia già annunciato sul proprio sito e che si intitola appunto Fisica e fisici a Pisa nel novecento, il cui obiettivo è iniziare, in realtà non è la conclusione di un progetto ma quasi l'avvio, perché l'obiettivo è quello di iniziare un lavoro sistematico di ricognizione della storia recente della fisica nella nostra sede, obiettivo che credo e ho apprezzato moltissimo l'intervento di Ghidini dell'altro giorno, dovrebbe essere fatto per quanto possibile in tutte le sedi più importanti italiane, perché mentre l'attività di ricerca preziosissima sul passato meno recente è sicuramente attiva ancora abbastanza, l'attività sui tempi più recenti spesso è un po' deficitaria, noi abbiamo iniziato questa attività a Pisa nella consapevolezza che si stava perdendo la memoria, non di quello che si era fatto trecento anni fa ma di quello che si era fatto trenta anni fa e questo è veramente molto triste e credo che richieda uno sforzo da chiunque sia interessato alla storia della fisica, perché anzi parlando con qualche collega si era detto che sarebbe bello, come ha fatto Ghidini qui a Bari, che a ogni convegno della sede si impegnasse a fare questo tipo di presentazione per la propria storia, perché serve a tutti ovviamente. Va bene, entrando nel vivo, prima di parlare del Novecento vorrei fare un brevissimo excursus perché credo sia importante inquadrare come è in una città che all'inizio del Novecento era una delle quattro sedi italiane importanti per la fisica, se voi guardate la tesi della RIVS vedete che sono quattro le sedi di cui si occupa e sono Pisa, Roma, Torino e Padova, c'era qualche altra sede, molte università ancora non esistevano, c'era qualche altra sede ma sicuramente non importante per la fisica come queste quattro, però capire come Pisa fosse entrata in questo ristretto, diciamo in questa elite della fisica italiana può essere interessante ripensando un attimo a una storia che non è una storia che va molto indietro perché uno pensa a Pisa, la città di Galileo, ma in realtà all'inizio dell'Ottocento la tradizione di ricerca in fisica a Pisa era totalmente o pressoché totalmente perduta e qui bisogna fare onore al merito del Granduca Leopoldo II il quale a valle del primo incontro degli scienziati italiani nel 1839 si rende conto appunto che per la fisica, mentre per altre discipline c'era un'attività di ricerca già in atto a Pisa, per la fisica la situazione era talmente degradata, non saprei come definirlo diversamente, che occorreva un intervento piuttosto massiccio e lui lo fece chiamando più o meno contemporaneamente intorno al 1840 questi due personaggi che vedete in alto, c'è Ottaviano Fabrizio Mossotti e Carlo Matteucci, due personaggi fondamentali per la fisica italiana e forse non solo italiana dell'Ottocento che ovviamente hanno creato una tradizione locale, hanno creato una tradizione che poi è continuata in maniera a sorti alterne. Il loro principale allievo, lo vedete sempre in questa stessa diapositiva, è Felici, Felici è un altro dei grandi fisici italiani dell'Ottocento, il suo lavoro sull'induzione elettromagnetica è un contributo per molti aspetti fondamentale, apprezzato anche all'estero, forse non apprezzato tanto a causa della timidezza del personaggio che non era uno che andasse in giro a farsi tanta propaganda ma sicuramente quando si parla di legge di Neumann molti hanno cura di chiamarla come giustamente deve essere, legge di Neumann Felici perché diciamo c'è sicuramente una, anzi sotto certi aspetti il contributo di Felici è più pulito e più rigoroso di quello degli autori stranieri che sono entrati su questa materia. Però Felici appunto che era uno timido, che ha fatto scuola ma l'ha fatto in maniera strana, i suoi allievi Roiti, Bartoli, lo stesso Facinotti se ne sono andati da Pisa, non sono rimasti a Pisa a continuare la sua scuola, quindi quando nel 1893, e qui cominciamo a entrare nel vivo di questa presentazione, Felici è andato in pensione, si è posto il problema di trovare un successore e la successione è stata trovata dalla facoltà di scienze di Pisa nella figura di Angelo Battelli. Angelo Battelli, marchigiano di Macerata Feltria, nato nel 1862, che però aveva studiato a Torino con Naccari, poi da Torino, dopo aver lavorato per diversi anni a Torino, era andato in cattedra prima a Cagliari, nel 1887 mi pare, poi, no, sì vabbè, poi, no nel 89 scusate, poi dopo un paio d'anni passa a Padova, sede più illustre ovviamente di quella di Cagliari, per quello che si diceva prima, peccatomi, scusatemi, avevo dimenticato di spegnere il cellulare, passa quindi, dicevo, passa a Cagliari, da Cagliari passa a Padova, ma a Padova arriva come straordinario, ora le regole dell'università italiana nell'Ottocento sono un po' diverse da quelle attuali, e attualmente queste regole ci sono soltanto, per quanto ne so io, soltanto nell'università pontifice, cioè che in ogni sede c'è un solo ordinario per una disciplina, non ce ne può essere più di uno, gli altri che pure hanno lo status di professori, come diremmo noi, di prima fascia, sono straordinari, ma straordinari a vita, tra virgolette, cioè fintanto che il posto dell'ordinario non si libera. Siccome l'ordinario, che in questo momento ha un vuoto mentale, non mi ricordo chi fosse in quel momento a Padova, però era in buona salute, Battelli dopo un paio d'anni di permanenza a Padova, nel 93, si fa chiamare a Pisa dove invece il posto era appunto di ordinario e la sede non era certo di minor prestigio. Perché tutte queste premesse? Perché queste servono per inquadrare la figura di Battelli, figura diciamo di persona estremamente attiva, volitiva, impegnata anche politicamente, è stato più volte deputato, l'ultima volta addirittura è eletto plebiscitariamente nella sua circoscrizione d'origine nelle Marche, credo abbia avuto il 91% dei voti o robe di questo genere, ma è quindi assolutamente privo di remore rispetto alla necessità di andare da una parte all'altra. È interessante in questa vicenda dei suoi spostamenti che ogni volta smonta il laboratorio è che si è costruito e lo ricostruisce nella sede in cui si è trasferito, quindi il laboratorio di Torino lo porta a Cagliari, dopo due anni il laboratorio di Cagliari lo porta a Padova e dopo altri due anni il laboratorio di Padova lo porta a Pisa. Questo per inquadrare il personaggio. Perché nella trasparenza ci sono anche quelle due figure? Perché Battelli, e qui un altro aspetto estremamente importante della sua personalità, quando arriva a Pisa trova che l'istituto di fisica, la prima figura in alto, fatto costruire da Matteucci nel 1844 è un po' piccolo per i suoi gusti, ha grandi ambizioni, quell'edificio era bastato per 35 anni a Felici perché Felici aveva due o tre studenti e ci stavano tutti lì dentro, non era un problema, ma per Battelli che ha idee già di chiara espansione quell'edificio è del tutto insufficiente. E qui attenzione alle date, primo novembre del 93 Battelli arriva a Pisa, a marzo del 94 scrive al consiglio di amministrazione dell'università per dire questo istituto è troppo piccolo, bisogna che me lo allarghiate. A stretto giro di posta i tempi, abbiamo già visto anche in presentazioni dei giorni precedenti come i tempi dell'ottocento fossero decisamente diversi da quelli attuali, a stretto giro di posta il consiglio di amministrazione dice sì hai ragione ma non ci sono quattrini. Battelli prende i suoi contatti a Roma, evidentemente ne aveva già parecchi, e a luglio del 94, quindi tre mesi dopo aver fatto la richiesta del consiglio di amministrazione, arriva dal ministero della pubblica istruzione la seguente proposta. Noi siamo disposti a ripagare le spese che l'università di Pisa farà nel giro di tre anni, le spese che l'università di Pisa farà se oggi anticipa i quattrini per la realizzazione di un istituto più grande. 15.000 lire dell'epoca, che erano tanti soldi, comunque il consiglio di amministrazione dice va bene, l'edificio, siamo al 94 ancora, viene cantierato nel novembre del 94, inaugurato nel novembre del 95. Cioè nel giro di due anni da quando Battelli era arrivato a Pisa c'è l'edificio, non esattamente ancora grande come quello di sotto, perché questa è la configurazione definitiva del 1908 dopo un altro intervento di allargamento sempre voluto da Battelli, ma comunque un significativo allargamento dell'edificio del 44, fatto in tempi assolutamente oggi impensabili ovviamente, oggi impensabili, soprattutto impensabili i tempi burocratici, pensate appunto a un carteggio istituto, università, ministero, di nuovo università, di nuovo istituto, perché cosa fa Battelli per accelerare il processo? Dice se l'università ci mette queste 15.000 lire io ce ne metto 5.000 di tasca mia, notate bene, pensate alle proporzioni, cosa volevano dire con 15.000 lire se era addoppiato quell'edificio della prima figura, quindi 5.000 non erano noccioline, ce ne metto 5.000 di tasca mia per attrezzarlo scientificamente e questo avviene effettivamente. Questo per inquadrare il personaggio che è importante ovviamente per la storia dell'edificio ma anche per la storia della fisica, perché nel momento in cui Battelli fa questa operazione ha chiaramente in mente di creare una scuola, questo è palese. Come sempre per inquadrare ancora il personaggio, non ha fatto solo questo, dal punto di vista organizzativo, ha rivitalizzato il nuovo cimento, il nuovo cimento quando Battelli arriva a Pisa vendeva 100 copie, dopo un anno ne vendeva 500, anche con il meccanismo degli scambi, cioè ha contattato mezza Europa dicendo io vi mando il nuovo cimento se voi mandate la vostra e questo è stato uno dei meccanismi con cui è riuscito a creare l'importantissima biblioteca di fisica dell'istituto Pisano, partecipa alla fondazione della SIF nel 1997, nel 1900 convince Felici che era il titolare proprietario del nuovo cimento, ancora pur essendo in pensione, accedero alla SIF di cui il nuovo cimento diventa l'organo ufficiale. Ma veniamo alla fisica, perché la fisica è poi la cosa di cui vorrei parlarvi soprattutto. Il grosso del lavoro Battelli l'ha fatto in realtà prima di arrivare a Pisa, come lavoro suo di ricerca, perché quando era a Torino si è occupato inizialmente di fenomeni termici, poi di fenomeni termoelettrici, in particolare l'effetto Peltier, l'effetto Thomson, su cui è lavorato parecchio, si è occupato di fisica terrestre e a lungo anche di proprietà termiche dei vapori. Di questi argomenti è importante capire come ci ha lavorato Battelli, perché questo è un po' anche quello che devo considerare il fil rouge di questa presentazione, cioè lo stile di questi fisici sperimentali pisani, che ha condizionato tutta la scuola pisana e, come dirò alla fine, praticamente fino ai nostri giorni. Battelli, come forse molti fisici dell'epoca, ma in modo particolare, aveva un obiettivo che era quello non di fare delle teorie, ma di verificare le teorie altrui, decidere quali erano giuste e quali erano sbagliate. Quindi il suo obiettivo era fare, per quanto possibile, gli esperimenti più precisi possibili sul mercato. Il suo obiettivo era di misurazioni fini, di misurazioni di grandissima accuratezza che permettessero, ad esempio per questi fenomeni di cui vi ho appena parlato, di decidere tra le varie proposte, all'epoca ce ne erano diverse, c'era molta fenomenologia, chiamiamola così, in giro per l'Europa, nel quadro di queste proposte teoriche, che erano praticamente tutte non italiane, notate bene, perché questo stile era abbastanza di dare un peso minore alla fisica teorica, in Italia era abbastanza diffuso, bene, tra tutte queste teorie, decidere qual era quella più corretta. E questo è stato gran parte del suo lavoro, sia per i fenomeni di flessore elettrici, sia per le proprietà termiche dei vapori, lavorato sull'equazione di Clausus, eccetera. Interessante il fatto, proprio per capire come lavorava, che queste memorie sulla fisica terrestre, che non sono poche, vedete 14, in realtà a differenza di tutte le altre attività di battelli, sono estremamente poco interessanti. Perché? Perché non c'è una teoria da verificare. Lui si è occupato di fisica terrestre perché evidentemente per un po' lo ha affascinato l'argomento, ma la mancanza di una teoria di riferimento ne ha fatto uno sperimentatore abbastanza vuoto, non aveva un obiettivo specifico su cui andare a fare la misura, allora raccoglieva dati ma li raccoglieva un po' a casaccio, sempre con la stessa accuratezza sperimentale, ma senza mai trovare un filo conduttore in questa ricerca. Il confronto appunto dei suoi lavori di fisica terrestre, con quelli ad esempio sulle proprietà termiche dei vapori, clamoroso da questo punto di vista, ma ci dà una traccia di lettura del tipo di fisica, del tipo di mentalità che poi ha condizionato un'intera scuola. Quando arriva a Pisa, continua per un po' a lavorare, molto meno di prima, molto meno di prima, la prima fase è interessante perché poco tempo dopo che Battelli è arrivato a Pisa arriva anche un allievo più giovane di Naccari, Garbasso, che aveva una decina d'anni meno di Battelli e si trovano insieme all'inizio del 96 a Pisa, leggendo sul giornale, perché è veramente andata così la storia, il giornale del Corriere della Sera del 12 gennaio del 96, la notizia che Röntgen ha trovato, i raggi X sostanzialmente, notizia giornalistica, non è che fosse un articolo scientifico. Partono in quarta e nel giro di un mese rifanno autonomamente l'esperimento, hanno capito più o meno cosa ha combinato Röntgen, rifanno autonomamente l'esperimento di Röntgen e fanno una comunicazione, addirittura una conferenza pubblica nel febbraio del 96, o forse primi di marzo del 96, per spiegare quello che hanno visto. Sempre per capire il tipo di atteggiamento nei confronti della fisica è sintomatico il fatto che fanno questa bella presentazione, rifanno l'esperimento di Röntgen con grande accuratezza, come era lo stile appunto delle loro ricerche, ma lo interpretano a casaccio ancora una volta, non c'è una teoria dietro e la loro teoria è completamente sballata, dicono che queste radiazioni vanno dritte e quindi non sono onde elettromagnetiche, l'argomento che all'epoca non erano gli unici a portare avanti, ma non avevano capito il fatto che la radiazione elettromagnetica penetrante va esattamente dritta come altri tipi di radiazione, non è necessario avere particelle materiali perché vadano dritte, bastano dei fotoni abbastanza pesanti, ma loro questo non l'avevano conto, proprio perché non avevano un background teorico significativo. Va avanti a fare esperienze con gli allievi, sostanzialmente il primo è Luigi Magri con cui lavora moltissimo sulle scariche oscillatorie, lavori molto belli dal punto di vista sperimentale, poi invece con Occhialini padre, Raffaele Augusto Occhialini e con Silvio Occhella, un altro suo collaboratore che tra l'altro resterà collaboratore a vita praticamente, non c'entra niente, ma per inciso a Lassif c'era Renato Ricci che ha conosciuto Occhella perché Ricci si è laureato a Pisa nel 50 e mi raccontava degli aneddoti su personaggi diciamo anche abbastanza comici dell'epoca perché appunto era un piccolo mondo. Vabbè comunque questo studio della radioattività è stato importante soprattutto per la sistematicità nel 1909 questi tre, cioè Battelli Occhialini, che pubblicano un volume prima in italiano in tutto l'altro punto la radioattività che poi viene tradotto in francese e in tedesco a una grande diffusione in tutta Europa perché evidentemente era un manuale, non è che avessero trovato cose praticamente originali, ma un manuale molto sistematico, molto accurato che ha fatto testo per un certo tempo. Poi si è occupato di navigazione aerea, si è occupato anche di altro, ha fatto i primi esperimenti di cinema sonoro in uno dei primi cinema italiani, il cinema Lumière di Pisa che è esistito ancora fino a poco tempo fa in quel palazzo, si chiama Palazzo dell'Ussero, ma comunque era un'impressione estroversa, insomma uno che si è occupato di tantissime cose, di navigazione aerea, come avete visto forse nella trasparenza precedente, e soprattutto ha fatto scuola. Ha fatto scuola, in che misura? A parte Garbasso che era un collaboratore non allievo, ha laureato 74 studenti, non è un piccolo numero per l'epoca, di questi 74 voi qui vedete una lista dei principali, di cui tutti quelli che hanno un nome in rosso di fianco sono diventati cattedratici, insomma in sintesi, guardando questa lista stiamo parlando, e se voi prendete l'elenco dei cattedratici di fisica sperimentale, beh poi c'era solo la fisica sperimentale all'epoca, nel 1930 a parte la cattedrale di Fermi, c'era solo la fisica sperimentale, beh un quarto dei cattedratici di fisica sperimentale italiani sono allievi di Battelli, il che non è poco ovviamente, non è poco anche perché alcuni di questi poi non sono, come dire, dei passanti, cioè da Occhialini stesso a Perucca, a Larita Brunetti, Pierucci forse una figura un po' minore, comunque Modena ha avuto la sua importanza, e Puccianti che poi sarà colui che prenderà il posto di Battelli quando nel 1916 Battelli muore abbastanza giovane, di nefrite non curata. Ma non ci sono solo i cattedratici, ci sono non meno di questi 74, non meno di 27, è una stima per difetto perché è difficile trovare tutte le informazioni in materia, diventano professori di scuola media superiore, quasi la metà pubblicano almeno un articolo sul nuovo cimento, voi dite facile, Battelli era padrone del nuovo cimento, però evidentemente siccome anche una persona che aveva un certo senso critico se gli faceva pubblicare la tesi vuol dire che proprio schifo non faceva, e quindi è una stagione di formazione non soltanto di ricerca, che forse non è stata la ricerca più memorabile della storia della fisica, ma di formazione di una generazione di fisici sperimentali che poi ha impattato non marginalmente sull'intero sistema formativo nazionale. Ma come dicevo, il secondo personaggio di cui volevo parlare di oggi è Puccianti, il quale, allievo di Battelli, perché c'è quel libro di fianco? Il libro di fianco è perché Puccianti è un personaggio nato a Pisa che si inserisce in un contesto locale molto più compatto, cioè Battelli veniva da fuori sostanzialmente, poi i suoi riferimenti sono rimasti a lungo anche fino alla fine della sua vita, nelle Marche. Invece Puccianti era figlio di un letterato, appunto il libro che purtroppo non si vede da copertina, è un'opera del padre che commenta le poesie del Giusti, commenta le poesie del Giusti facendosi dare informazioni da un personaggio che qui richiamo qualcosa che è stato menzionato in questi giorni proprio qui a Bari, che è un altro letterato che è Ernesto Allegretti. Chi è Ernesto Allegretti? Ernesto Allegretti è appunto un letterato pisano di non grandissima importanza che parla col padre di Puccianti, gli racconta le storie del Giusti perché veniva come il Giusti da pesce ed è il padre di Mario Allegretti, un fisico che poi laureato insieme a Puccianti con Battelli che poi diventa il preside del liceo di Pisa ed è padre di un altro fisico ancora che avete sentito nominare che qui a Bari ha avuto la sua importanza, è il padre di Lamberto Allegretti, quello che nel 1946-47 è venuto qui a Bari e ha trovato la sede per il nascente istituto di fisica barese. Quindi tutta una rete di relazioni estremamente interessanti. Lamberto Allegretti laureato con Puccianti ovviamente, erano praticamente una grande famiglia allargata di fisici e altri studiosi locali che non si può chiamare nemmeno un epotismo accademico perché poi appunto non erano persone che non meritassero di fare la carriera ma che sicuramente erano facilitate nella loro attività da questa anche rete relazionale che si era venuta a creare in questa piccola città in cui più o meno queste persone moltissime cose su di loro e le ho ritrovate su un giornaletto locale che si chiama Il Ponte di Pisa che veniva pubblicato settimanalmente e su cui questi personaggi erano continuamente presenti per le occasioni più svariate, matrimoni, cerimonie pubbliche, cerimonie, feste sociali di qualche genere. Era veramente un piccolo mondo in cui però ovviamente anche la fisica aveva un suo ruolo non marginale. Puccianti che fa? Si laurea a Pisa con Battelli nel 98, va via subito perché a Pisa in quel momento non ci sono grandi prospettive e va a Firenze dove sta 15 anni, dove si sposa, mette su famiglia e dove fa una serie di attività di ricerca non indifferente, vedete la lista, prima si occupa di dispersione anomala si occupa di spettroscopia celeste, diventa un famoso spettroscopista, prima ancora di laurearsi aveva una fama europea nel mondo della spettroscopia, quindi si occupa di molteplicità spettroscopiche studia la potenza realizzata dal corpo nero, calcola, c'è scritto lì con notevole precisione la costante Stefan Boltzmann, si occupa dell'effetto Sagnac per dimostrare, notate, la traccia di interesse per la teoria perché vedete allievo di Battelli come Battelli ha la stessa visione della fisica cioè che bisogna fare degli esperimenti molto precisi, molto raffinati per verificare le teorie altrui le teorie non si fanno in casa, si vanno a prendere in Germania però diciamo con attenzione anche a quello che sta succedendo al mondo non è che vive diciamo in una nicchia in cui si fa solo la solita vecchia storia l'effetto Sagnac era stato presentato da Sagnac stesso come una controprova alla teoria della relatività e invece Puccianti argomenta con dottrina che non è affatto una controprova alla teoria della relatività anzi è perfettamente compatibile in quegli anni Camerlingon si scopre la superconduitibilità, lui se ne occupa un po' soprattutto si appassiona la teoria di Amperde e magnetismo perché è importante? è importante per una battaglia culturale fatta da Puccianti che io sottoscrivo tuttora oggi a favore del CGS contro l'MKS perché il CGS è un sistema in cui B e H hanno le stesse dimensioni fisiche e giustamente anche alla luce, quindi con un fondamento teorico tra virgolette, anche alla luce della teoria di Amperde cioè che i fenomeni magnetici dovuti ai magneti e quelli dovuti al magnetismo creato da correnti non sono fenomeni indipendenti, il magnetismo è un effetto di correnti microscopiche questa era la teoria di Amperde e quindi pensare di trattare il campo magnetico e il campo di induzione magnetica come due quantità fisiche correlate soltanto da una quantità dimensionale quindi praticamente non omogenee tra loro era un errore concettuale e quindi questo è il motivo della sua battaglia contro Giorgi che ha perso ovviamente come ognuno di noi sa ma che secondo me aveva i suoi fondamenti diciamo quando arriva Pisa gli è già passata la voglia di lavorare qualcosa fa ancora ma qui viene la cosa che mi piace segnalare cioè questo personaggio che diciamo dopo il 17 non è che abbia più scritto gran lavori un piccolo elenco ma un piccolo elenco di cose attenzione bene che non sono lavori ma suggerimenti perché Puccianti che è scomparso dalla gran parte dei libri di storia della fisica in realtà ha un diritto di cittadinanza tutto particolare per le cose che ha suggerito ad altri fisici che poi altri fisici hanno fatto e quindi certamente il merito è di chi le ha fatte non c'è dubbio ma che evidentemente nella sua intelligenza fisica motivata anche da quell'atteggiamento culturale verso i confronti degli esperimenti e della fisica sperimentale che ha cercato di mettere in evidenza lui aveva questa capacità di cogliere qualche punto fondamentale ad esempio lì ci sono due cose una è quella della lunghezza d'onda dei raggi X Puccianti capisce che il problema dei raggi X è che essendo tanto penetranti se uno li manda per misurare nella lunghezza d'onda li manda con esperimenti di diffrazione perpendicolarmente quelli vanno dritti perché ha bisogno di un passo reticolare più piccolo come ottiene un passo reticolare più piccolo? mandando i raggi X suggerendo a Carrara, suo allievo di mandare raggi X radenti rispetto al cristallo non perpendicolare al cristallo e trova, cioè sulla base del sosteggimento poi Carrara trova un modo di effettuare questa misurazione con una tecnica che poi per diversi anni è stata utilizzata anche a livello europeo per fare questo tipo di misurazioni ma la cosa, la novità appunto che mi è stata segnalata da qualcuno e poi dopo di cui ho approfondito un attimo scusate no, allora l'altra la direzione è questa che nel 1930 Puccianti suggerisce a Bruno Russi questa tecnica, la lente magnetica la lente magnetica sono due strutture metà di ferro con l'avvolgimento che generano due magneti orientati come vedete nella figura nei due versi e che serve sostanzialmente a Bruno Russi per le prime esperienze sui raggi cosmici per capirne, diciamo, il comportamento dal punto di vista della carica perché a seconda della carica con cui il raggio arriva all'estremità superiore di questa lente magnetica viene o buttato fuori dalla lente o invece focalizzato se ha il segno giusto della carica e va a finire nel rilevatore che c'è alla base di quella stessa struttura poi l'apparato viene perfezionato da Rossi con questa disposizione triangolo che serve per capire se c'è un primario o un secondario ma questo è un aspetto ulteriore la cosa fondamentale è appunto che l'idea della lente magnetica è un'idea di Puccianti è un'idea di Puccianti che non finisce lì non finisce soltanto nei lavori di Rossi tra il 30 e il 32 perché poi Rossi racconta questa storia ha nei pancini e nei conversi il terzo Piccioni e cosa succede? che questa stessa tecnologia viene utilizzata nei famosi esperimenti del 43-44 con versi, pancini e piccioni che sono quelli sul mesotrone che secondo anche quello che viene detto nei libri anche a livello internazionale è il primo vero esperimento di fisica di particelle mondiale quello che permette di decidere che il muone non è la particella di Yukawa in sostanza quindi questa lente magnetica dicevo qui non è per accampare delle priorità è semplicemente per tracciare un profilo del personaggio un personaggio che ha delle grandi intuizioni che ha una grande attenzione anche per le problematiche che gli altri fisici stanno sviluppando in quegli anni ma che essendosi stufato di fare ricerche in prima persona si limita a dare dei buoni suggerimenti ma non fa più niente di attivo però con tutto questo proprio perché è una persona che ha questo tipo di capacità riesce a costruire una scuola una scuola che come vedete non è esattamente di poco conto perché tra i 120 allievi di Puccianti ce ne sono almeno una ventina sono quelli che sono elencati qui che sono diventati professori ordinari di fisica fisica sperimentale ancora una volta beh qualcuno anche teorico come vedremo e ancora una volta qui se spostiamo di 30 anni se andiamo a vedere l'elenco dei professori di fisica del 1960 troviamo che di nuovo un quarto dei professori di fisica sperimentale italiani sono allievi di Puccianti per dritto o per rovescio ora certo qualcuno di questi non è esattamente allievo di Puccianti magari la tesi stessa l'ha fatta con qualche altro riferimento credo sia il caso di Gilberto Bernardini poi in questa lista appunto non compare Ricci che si è laureato con De Renzini un fisico allievo di Puccianti ma comunque un fisico pisano locale altri appunto sono solo marginalmente però alcuni di questi beh menziono in particolare Adriano Gozzini perché Adriano Gozzini sulla linea e sulla metodologia di fare fisica di Puccianti Gozzini era tipico per questo sotto questo profilo anche lui era totalmente disinteressato alla teoria ma totalmente interessato alla perfezione dell'esperimento e voi dite vabbè ma questi sono dati caratteriali individuali raccontavo a qualcuno di voi che pochi giorni fa parlavo con Guido Tonelli che tutti conoscete perché ha diretto uno degli esperimenti con cui è stato rivelato il bosone di X gli raccontavo queste storie lui è un collega che però non vedo spesso perché sta quasi sempre a Ginevra raccontavo un po' di queste storie così a chiacchiera e lui dice ma questo è ancora il modo in cui lavoriamo noi pisani cioè questo atteggiamento per cui l'importante è fare bene l'esperimento non è importante avere una teoria dietro a quell'esperimento atteggiamento che ha aspetti positivi nella qualità dell'esperimento e negativi nella mancanza di una reale consapevolezza teorica di quello che si sta facendo se la teoria l'hanno fatta bene gli altri viene bene l'esperimento se la teoria l'hanno fatta bene gli altri non è detto che si cave un ragno da un buco a questo proposito e rapidissimamente perché credo che il tempo a mia disposizione stia finendo volevo soltolineare appunto come la fisica teorica è arrivata o non è arrivata a Pisa ripeto le cose venivano lette nei corsi si parlava di fisica teorica qui c'è un elenco diciamo dei contenuti di alcuni corsi Puccianti insegnava la superiore già De Broglie e Schrodinger nel 27-28 quindi non è che avesse completamente perso di vista quello che succedeva al mondo Gentile Junior ha tenuto per anni un corso di fisica teorica in cui faceva principi di meccanica quantistica e faceva anche le statistiche quantistiche lui poi ha dato anche dei contributi originali alle statistiche quantistiche il giovane Gentile più avanti si è occupato delle equazioni di Iraq parliamo del 34-35 il positrone, il neutrone cioè già la fisica del nucleo si faceva a Roma ovviamente con fermi ma si faceva almeno a livello didattico si faceva anche a Pisa si faceva la fisica Lazzarino che era all'ordinario di fisica matematica anche lui diciamo si occupava della teoria della nuova meccanica quantistica già nel 28-29 nel 30-31 come vedete ma sempre a livello didattico ricerca non se ne faceva la ricerca e qui appunto c'è questo elenco che è significativo la ricerca la fanno i teorici ma i teorici in Italia chi erano? lo sappiamo come è andata la storia c'è stato il primo concorso del 27 quello vinto da Fermi Pontremoli che poi è morto subito e Persico che nessuno di loro certamente è andato a Pisa c'è stato un secondo concorso nel 37 più la nomina diciamo onori come si dice per chi ha la fama di Majorana che di nuovo ha visto Gentile andare a Milano Vicca a Palermo e poi dopo si è spostato rapidamente a Padova e racca a Pisa quindi qui c'era nella testa di Puccianti che ovviamente queste decisioni le prendeva lui l'idea che insomma forse questa fisica teorica non era poi una cosa da dare completamente diciamo totalmente ininteressante il problema è che racca era ebreo e un anno dopo che era arrivato a Pisa è stato cacciato dalle leggi razziali e quindi a quel punto Puccianti si è scocciato ha detto vabbè allora non vale la pena lasciamo perdere lasciamo perdere e cosa ha fatto? ha dato il corso di fisica teorica De Renzini bravissima persona mi dice Renato Ricci che si è laureato con lui colta intelligente capace ha avuto anche un certo ruolo nella storia della fisica diciamo come studioso della storia della fisica nel senso che ha diretto pro tempore la domus dell'Ileiana ha classificato parecchi dei documenti che c'erano ed è stato sicuramente una persona di qualche rilievo però sicuramente lui di ricerca originale fisica teorica non ne ha fatta mai non ne ha fatta mai risultato fino a questa è poi la conclusione a cui volevo arrivare in questo excursus di fisica pisana fino a che non è arrivato nel 1955 a Pisa Radicati che è l'inizio della scuola pisana di fisica teorica di cui anche faccio molestamente parte e che è diciamo qualcosa che però si stacca totalmente dalla tradizione pisana che invece continua nella fisica sperimentale con gli allievi con Gozzini e i suoi allievi e con anche quei fisici sperimentali delle alte energie pur allievi di Conversi e di Salvini che però portano nel loro DNA questa impostazione che ripeto Guido Tonnelli per primo mi riconosce è che l'impostazione di una fisica che in qualche modo e questo forse ripeto io lo dico con un certo rammarico non tradisce a mio parere un pochino quell'idea galileiana del rapporto tra teoria e esperimento che dovrebbe essere alla base del lavoro di tutti noi di tutti coloro che vogliono fare ricerca attiva nel mondo della fisica grazie per l'attenzione grazie grazie mille Paolo domande Pasquale prego Pasquale Tucci prego una considerazione di carattere storiografico cioè quando si parla del rapporto tra teoria e esperimento esiste una posizione storiografica secondo la quale l'esperimento la parte sperimentale della scienza non è solo autonomia perché è piena di teoria e quindi tutto il peso viene da una teoria un'altra posizione storiografica è quella di Kuhn esistono le scienze bagoniare e esistono le scienze matematizzate e il progresso scientifico si contraddistingue per il fatto che si passa dalle scienze bagoniare alle scienze matematizzate le quali naturalmente hanno uno status conoscitivo più significativo che si è per quello io vorrei però sottolineare il fatto che esistono delle altre posizioni storiografiche minoritarie molto note eccetera cito solamente due Robert Fox i quali cercano di creare una storiografia incentrata sul lavoro di laboratorio del fisico dello scienziato sia il fisico sperimentale che il fisico io non mi divulgo su questo perché tra l'altro così c'è molto da lavorare su questo aspetto però questo potrebbe dare un significato diciamo anche più importante al lavoro del fisico sperimentale che in molte relazioni e si intravede anche nella tua sembra avere un modo di fare assolutamente così è un maledone non è qualcuno che pensa Drago prego poi magari rispondi entrambi io credo che si deve raggiungere questa relazione una dimensione che è un po' per tuta tra le storie no quello non va più l'interno di quello forse credo che occorrerebbe aggiungere un pochino la dimensione che oggi è andata un po' perduta tra gli storici quella del rapporto scienza-società che nel caso della fisica italiana pesa non è determinante completamente però ha un peso forte non si può ignorare che ad esempio l'università di Napoli è stata chiusa per alcuni anni quando c'è stata l'unità d'Italia perché i vecchi professori sono stati considerati legati alla monarchia e hanno istituito professori totalmente diversi da quelli di prima questa cosa è molto significativa come ad esempio Beltrani un matematico molto importante per la matematica della geometria non è qui idea era un ferroviere promosso sul campo professore universitario perché era progressista il progressismo tra i professori di matematica e di fisica alla fine dell'ottocento era determinante e dominante St. Robert a Torino ha fondato ad esempio il Touring Club italiano che ha scritto un'opera sulla termodinamica riscoperto Saddi Carnot quindi era un teorico ma faceva mille attività per far progredire la società perché l'unità d'Italia ha mosso tutta la scienza per favorire una crescita e molti anche a Pisa Ulisse Dini e tanti altri sono diventati senatori e Battelli in Parlamento eccetera eccetera quindi il legame politica scienza era forte ed era finalizzato a delle conquiste sociali di mobilitazione della società e di crescita della società cosa succede però alla fine dell'ottocento che c'è una crisi della fisica e questo mette in discussione tutta una serie di cose per cui in Italia c'è una forca tra quelli che si rifiutano di accettare la novità della meccanica quantistica della relatività e dall'altra tipo Majorana di Bologna e altri e dall'altra quelli che invece cercano di recuperare come ad esempio con l'educazione cioè formando nuovi fisici che è una tipica reazione di una sconfitta come c'è stato dopo la rivoluzione francese di molta gente che si è data alla formazione ora questo non è puramente un discorso esterno perché significa che il rapporto fisica-matematica è fortemente influenzato fino alla fine dell'ottocento l'astronomia era dei matematici questo è un punto fondamentale quindi quando tu dici la fisica teorica l'astronomia non è fisica teorica però era dei matematici perché? perché la fisica teorica era fisica-matematica e quindi i vari che so ad esempio anche Pareto o Cesaro si davano a fare a fare una teoria secondo la meccanica razionale dell'economia quindi c'era teoria ma era una teoria che veniva direttamente la matematica e si applicava come un cappello sopra la realtà fisica o economia o astronomia che fosse mentre ai fisici restava la parte sperimentale a Napoli restava la geofisica e la città dove si studiavano i vulcani internazionalmente quindi in questo senso c'è un rapporto fisica-matematica che cambia solo quando arriva la meccanica quantistica in forze e porta avanti un discorso di fisica-matematica totalmente diverso sul quale i vari Volterra o altri personaggi sono incapaci di seguire solo Hilbert fa lo spazio di Hilbert e recupera il rapporto fisica-matematica sotto il suo aspetto ma oltre Hilbert e la scuola tedesca non c'è un recupero da parte dei matematici di questa nuova scienza Poincaré era già passata quindi in questo senso quando tu dici la fisica teorica non c'era non devi dimenticare secondo me che c'era un'astronomia che pure funzionava in termini teorici e in secondo luogo che tutto questo dipende da una dimensione esterna se vuoi alla professione dei fisici ma la quale i fisici partecipavano molto fortemente Se posso rispondere rapidamente in due battute allora mi dispiace se ho dato l'impressione di aver presentato gli sperimentali come degli smanettoni io volevo sottolineare invece la grande qualità del loro lavoro e anche l'intelligenza con cui lo svolgevano il problema è che il fatto che loro non avessero la piena consapevolezza di quanto come tu hai accennato ed è un'interpretazione che io condivido di quanto anche l'attività la mera l'attività di laboratorio si è impregnata di teoria e quindi il fatto di non avere la consapevolezza di portarsi dentro comunque uno schema teorico che applicano anche nelle loro attività fosse in qualche misura limitativo ma non nel senso che li limitava nella qualità di quello che facevano o rendeva superficiale la qualità di quello che facevano ma non gli permetteva di spaziare nel loro campo tanto quanto avrebbero potuto perché a mio parere diciamo una diversa consapevolezza teorica ti permette anche di fare degli esperimenti che forse sono più significativi di quelli che tu vai a fare pur con la massima accuratezza e intelligenza rimanendo all'interno di una teoria implicita e non esplicitata era solo questo che volevo dire poi diciamo certamente non erano degli smanettoni come non lo sono i miei colleghi attuali che hanno fatto gli esperimenti di grandissima importanza però ecco voglio dire pensate alle onde gravitazionali un'altra cosa che si fa anche oggi a Pisa lì l'atteggiamento è diverso non si possono fare le onde gravitazionali senza aver capito la relatività generale e i colleghi che fanno le onde gravitazionali non hanno capito bene e quelli non sono della scuola pisana non so come dire pur essendo colleghi esattamente come gli altri di cui parlavo prima perché mentalmente hanno assunto un diverso atteggiamento rispetto alla loro disciplina pur essendo sperimentatori estremamente accurati in questo senso hanno assimilato qualcosa della scuola però hanno acquisito anche una consapevolezza della teoria rispetto alla quale dentro la quale si collocano i loro esperimenti che è molto diversa io devo dire a qualche collega che ha fatto esperimenti al serno ho sentito dire delle sciocchezze teoriche da andare a capriccio e vabbè pazienza pazienza però ma non perché non li voglio sminuire veramente hanno fatto un lavoro grandioso ma secondo me potevano fare tra virgolette di più con una diversa consapevolezza teorica quanto quello che diceva Drago sono totalmente d'accordo che c'era la fisica matematica per me che non si parlavano l'unico caso di persone che ho citato prima felici che parlava con Mossotti fisico matematico e con Matteucci fisico sperimentale ha dato come esito le teorie di felici che sono della buona fisica sperimentale impregnata di fisica teorica però quella linea di pensiero è scomparsa con lui quindi non è che non ci sia stata il rapporto e così ovviamente come c'è stato un rapporto con la società molto pesante cercavo di accennarlo anche folcloristicamente con queste relazioni ma erano persone immerse nella società in cui vivevano che però non sempre si traduceva in un comportamento diciamo di piena integrazione tra le discipline e quindi di pieno sviluppo di potenzialità grazie ancora Sì molto interessante l'ultima cosa una curiosità quando tu hai detto che nel 1930 più o meno un quarto di tutti i cattedratici derivavano dall'insegnamento di Battelli mi fa ritornare in mente che in quel periodo i testi più diffusi di fisica erano i Battelli e i Murani e quindi questo torna perfettamente con quello che tu dici grazie Grazie a te Grazie a te